nuova puntata all'insegna delle esperienze di viaggio quella proposta dalla coppia più frizzante della radio martina polelli e gianni manuel a raccogliere ancora una volta testimonianze e simpatici aneddoti degli italiani nel mondo we love italia il format con ospite fisso il giornalista marco zorzi torna così a raccontare avventure e disavventure tra i continenti ma anche di chi una volta scoperto un nuovo paese ha deciso di farne la propria dimora è il caso tra gli altri di fabrizio guida turistica ormai da anni in lituania che ha spiegato come con meno di mille euro tutto compreso a persona si possa trascorrere una settimana visitando i tre paesi baltici assaporando un felice connubio tra paesaggi e modernità interessante il punto di vista di mauro che ha raccontato come la svezia sia sempre più alla ricerca di professionalità scuole di lingua gratuite per chi ha ottenuto un lavoro e quindi una stabilità decida di restare profumo di mare voglia di lasciarsi cullare da profumi esotici e colori abbaglianti quella trasmessa da gabriella ho abbandonato il grigiore della lombardia e qui nella repubblica dominicana faccio l'insegnà la gente immobiliare ha spiegato rivoluzionando la mia vita e gustando finalmente il tempo e un teppore che non ti lascia mai